Quando la moglie è possidente il marito rischia di rimanere senza voce in capitolo, finché si mostra la fortuna che gli fa vincere tanti soldi e allora ecco che si capovolgono i ruoli in famiglia. Nel rispetto della tradizione della commedia teatrale la compagnia Incontriamoci al suo debutto al centro sociale Grotta Santa ha messo in scena Muglieri Ricca, marito Parra Picca. L'associazione Incontriamoci promuove iniziative di carattere culturale, sportivo e culturistico sul palco. La maggior parte degli attori è alla loro prima esperienza. Una bellissima serata, il divertimento, gli attori molto divertiti, un pubblico molto numeroso e molto divertito, una bellissima serata d'estate in un centro anziani. Ringrazio di cuore l'associazione Incontriamoci, il presidente Zeferino, il presidente Greco, insomma tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Sono uno che ci crede in questa associazione e vogliamo portare avanti un discorso culturale che inizia da quelle che sono proprio le origini della nostra lingua. E se questa è la riuscita dei centri anziani, con la collaborazione anche di altre associazioni, l'apertura mentale, la possibilità di divertirsi, allora possiamo, abbiamo ancora qualche lustro da poter passare con il sorriso. E' stato un affresco della sicilianità, alla fine con un risvolto etico e morale, superamento da parte dell'uomo della materialità, di solito avviene da parte della donna, si sono incavolgimento dei ruoli tipico della commedia. Serafina, ricordati che questa vincita è una lezione di vita per tutti.